Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni, dà via le riprese, ritorna ad Elaide. Il Paradiso delle Signore 8 continuerà a trovare spazio nel palinsesto della rete Ammiraglia Rai nella prossima stagione televisiva 2023-2024. La notizia che i fan attendevano con trepidazione è ormai ufficiale, la Rai ha scelto di produrre e mettere in cantiere una nuova stagione della celebre sopa ambientata nel grande magazzino milanese. Seguita ogni giorno da una media di quasi due milioni di affezionatissimi spettatori. Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla programmazione del Paradiso delle Signore 8 rivelano che le riprese ufficiali del Paradiso 8 cominceranno a metà maggio e andranno avanti. Come da tradizione, per tutto il periodo estivo. Di conseguenza, i vari protagonisti della sopa opera saranno impegnati con le riprese nei mesi della bella stagione. Così da poter garantire un elevato numero di episodi da mandare in onda già a partire da metà settembre. Quando riprenderà anche la messa in onda televisiva. Ma cosa succederà in queste nuove puntate del Paradiso delle Signore 8? Al centro dell'attenzione ci sarà il ritorno in scena della Contessa Adelaide. Interpretata dall'attrice Vanessa Gravina. Dopo aver fatto perdere le tracce al termine della settima stagione, ecco che la nobile donna rimetterà di nuovo piede in città e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita. Resta da capire, però, qual è questo segreto che sta custodendo Adelaide e che fino a questo momento non è ancora venuto a gala nel corso degli episodi della SOP trasmessi su Rai 1. Un giallo che potrebbe trovare spazio nel corso dell'ottava stagione della SOP Opera del Pomeriggio. Dove ci sarà spazio anche per l'apertura della nuova galleria guidata da Umberto e Tancredi. Il progetto dei due nuovi soci vedrà finalmente la luce nel corso dell'ottava serie A. Quel punto, bisognerà capire quale sarà la reazione di Vittorio Conti, riuscirà a reggere l'urto oppure le vendite del suo negozio crolleranno a picco. Tra i volti confermati, oltre a quello di Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Spicca anche Roberto Farnesi, che fin dalla prima stagione dei Lì, veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri. L'ottava stagione non sarà affatto scontata per Umberto, dato che si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale. Il commendatore è davvero innamorato di Flora oppure il suo cuore batte ancora forte per la Contessa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della nuova stagione. Grazie. 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 Grazie.